Ciao ragazzi, prima che inizia il video vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale perché siamo vicini ai 500.000 iscritti comunque oggi siamo allo zoo e vi farò vedere un po' di animali e fare i motivi di persone allo zoo e che dire da me e mia sorella, vi lascio al prossimo video ciao 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 ragazzi anche questo video è terminato spero che vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace un bel commento iscrivetevi al canale condividete questo video dove volete voi seguitemi anche su instagram iscrivetevi al nome della page qui sotto e che dire da me e dallo zoo ci vediamo in un prossimo video